Ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video questo video sarà un video get ready with me perchè sto cercando di uscire da questa casa con questo caldo ho messo un vestitino normale tipo questi qua 10m da 10 euro vabbè vestitino normale ho caldo ho tanto caldo ma tanto di quel caldo che sto morendo praticamente e cercherò di fare un get ready with me cercherò lasciatemi perdere acconciatura però quasi sta a morire proprio dal caldo io non ce la faccio questo video lo pubblicherò tra qualche giorno perchè l'ho già pubblicato quell'altro e niente cominciamo anche se io vado a fare un trucco semplicissimo perchè io non ce la faccio proprio cioè fa caldo proprio per fa caldo cioè capite me e non so perchè sti geni mi viene da parlare romanaccio e comunque romeo io ti ammazzo se fai cadere qualcosa tu lo dico cioè tu lo dico proprio no questi sono i soldi per carità dell'amor di dio eh no 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 scusate l'interruzione come sempre c'è nel senso non è un vero get ready with me senza interruzioni ok allora cominciamo leviamoci gli occhiali adesso non vedrò proprio niente ma proprio bello del niente allora che mi dite ragazzi cioè io ieri ho fatto una diretta su instagram se ancora non mi seguite su instagram andate a vi lascio giù sempre nell'info box ci sono i miei contatti e appunto lì ho deciso di fare una diretta almeno al giorno e ieri vi siete persi la mia figura di merda proprio alla grande la figura di merda c'erano alcuni mie fan appunto su cioè connesse con me e mi hanno chiesto di cantare intanto sto facendo le sopracciglia e mi hanno chiesto di cantare perché cioè io ho detto che ero stonata no però allora hanno detto no vabbè ma cantacelo lo stesso e io tipo ok però mi hanno fatto cantare Tiziano Ferro quindi Tiziano Ferro le so le cose cioè so quando posso cioè di solito con Tiziano Ferro non stono cioè diciamo questa cosa però con l'altra si oddio so sta morendo li vado a fissare perché se no non ce la faccio io cioè e allora appunto sulla diretta avevo detto dopo aver fatto la figura di merda proprio alla grande ho detto se mi sarebbe piaciuto una una diretta qui su youtube e se volete io ve la faccio comunque mi sono ricomprata il questo qui questo qui di essence c'è il mio amore c'è il mio amore proprio e appunto sto mettendo il mascara adesso qua sembra che sto passando un po' di luce cioè un po' di luce un po' di vento ma perché l'aria dici sempre le cazzate cioè devo vedere l'effetto cioè nobbi favore siamo proprio aumentate qua cioè è stupendo wow non lo ricordavo così perché stavo cioè stavo usando quello là di colistare che mi hanno fatto al compleanno l'altro anno e quello è soprattutto volume wow comunque come vi è andata a voi a scuola ah poi vi dovrò fare un altro video riguardante la scuola perché ho preso una decisione che vi spiegherò con calma giuro che vi spiegherò tutto prima o poi comunque guardate che effetto wow wow io amo questo mascara basta cioè wow e comunque niente ragazzi il video è finito lo so che era breve lo so che non ho fatto di with me cioè che non ho fatto niente praticamente però fa troppo caldo cioè capitemi per favore capitemi fatemi sapere appunto se il vestitino vi piace è un appunto uno là di H&M ho pagato 10 euro e quindi niente noi ci vediamo al prossimo video io vi mando un bacio enorme se il video vi piacere lasciate un bel pollice in su e vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non lo siete per vedere altri scleri di Ilaria basta prestare al prossimo video ciao ciao Grazie.